Ragazzi, ci siamo! Finalmente è stata svelata la data d'uscita ufficiale di Splatoon 3, ovvero il 9 settembre 2022! Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale! Sono JoePa17 e oggi siamo tornati in un nuovissimo video dedicato a Splatoon 3! Come un fulmine accen sereno, venerdì 22 aprile, Nintendo ha deciso di pubblicare su tutti i suoi canali social un nuovissimo trailer di questo videogame e inoltre finalmente hanno svelato la data d'uscita ufficiale, che come vi dicevo all'inizio del video è il 9 settembre 2022. Loro avevano promesso che il titolo sarebbe uscito durante l'estate 2022 e il 9 settembre è ancora estate, quindi effettivamente hanno mantenuto la promessa. Dato che Xenoblade Chronicles 3 doveva uscire proprio a settembre, a questo punto mi viene da pensare che Splatoon 3 fosse previsto per la fine di luglio, però probabilmente l'altro titolo è più pronto rispetto a questo qua. In ogni caso, sono contento finalmente di ricevere nuove informazioni su questo videogame. Oggi in questo video guarderò con voi per la prima volta il nuovo trailer che è stato pubblicato e naturalmente lo analizzeremo insieme. Vediamo che cosa si sono inventati questa volta. I filmati si riferiscono alla versione inglese del gioco, il gioco comunque sarà disponibile in italiano. Già da questa schermata posso notare che ogni giocatore utilizza un name tag diverso, quindi si può personalizzare. E ogni player per questo match ha selezionato un'arma diversa. Ci lanciamo sul campo di battaglia, ma questa cosa la sapevamo già. La mappa mi sembra abbastanza spoglia. Non è piccola, ma trovo che sia abbastanza spoglia, a parte che questa è ancora una versione in via di sviluppo, quindi sicuramente in futuro aggiungeranno tantissimi dettagli. Lui ha già caricato la speciale. Lui invece come speciale ha il carro armato a forma di granchio. Ecco il trizuka. Fichissimo, è devastante, avete visto? È devastante. La bolla scudo! Avete visto, il cecchino si è riparato all'interno per non farsi colpire. Vedo che utilizzano dei vestiti nuovi, però ogni vestito ha i classici tre potenziamenti più uno. Tre che potete modificare, mentre ce n'è uno che invece è fisso. Occhio alle frecce dell'arco. Eccolo qua in azione. Bellissimo. Carica i colpi alla velocità della luce, però, eh. Li carica molto velocemente. Attenzione al multiscatto, eccolo qua. Guardate che roba, in due salti si è avvicinato all'avversario e poi è rientrato come il jet splat nel punto in cui l'aveva utilizzato per la prima volta. Quindi diciamo che si può utilizzare per fare delle incursioni dietro alle linee nemiche. Ma sbaglio le speciali non durano granché, perché comunque mi sembra che finiscano in 4-4-8. Cioè il car armato l'ha utilizzato per pochi secondi e basta. Questa specie di tintofono è devastante, guardate che roba. Tintofono quintuplo. Multitornado. Quindi praticamente questa arma speciale è un'evoluzione del tornado presente su Splatoon 1. Mi ricordo quando cliccavo sul paddone per decidere dove spararlo. Era fichissima come arma speciale. Mancano pochi secondi alla fine. Possiamo notare comunque in alto, tra le varie icone, chi ha l'arma speciale carica e chi no invece. No vabbè, quel giocatore lì quando utilizza il multiscatto è praticamente impossibile da prendere. Attenzione. Attenzione. Mancano 5 secondi alla fine. Bomba curling. Ho visto il giocatore che la utilizza come tanti di noi. La lancia e poi la segue per ricaricare subito il serbatoio. Schermata finale. 49 a 42. Vince la squadra gialla. Il migliore o comunque i giocatori che hanno giocato meglio ricevono una medaglia e non vè traccia della squadra avversaria. 9 settembre 2022. Ok ragazzi, rieccoci qua. Se devo essere sincero con voi ho notato tante cose interessanti, ma il trailer non mi ha colpito particolarmente. Piuttosto che magari il gameplay di una singola partita avrei preferito un mix di azioni salienti prese da varie partite ambientate su varie mappe. Perché comunque conosciamo già alcune delle mappe presenti all'interno del gioco. Ma direi di andare con ordine e adesso vi dirò cosa non mi è piaciuto e cosa mi è piaciuto di quello che ho visto. Per quanto riguarda la mappa, ok, il gioco è ancora in via di sviluppo, però l'ho trovata tanto tanto spoglia. E sembra un mix di mappe già viste, per citarne un paio, che avete citato anche voi online, Rione Storione e Centro Commerciale. Le icone in alto che mostrano quali armi stanno utilizzando i vari giocatori, sinceramente non mi hanno colpito granché, preferisco di gran lunga ancora quelle presenti su Splatoon 2. Penso che abbiano deciso di optare per questo stile, proprio per cambiare un po' e far capire alle persone che questo è un titolo completamente nuovo. Poi comunque si tratta di una cosa soggettiva. Sono sicuro che tra di voi ci sarà sicuramente qualcuno che apprezzerà questo nuovo stile grafico. Altra cosa che non mi è piaciuta, la schermata finale. Trovo che l'abbiano semplificata un po' troppo, spero che sia temporanea e quindi prima dell'uscita del gioco la modifichino ancora. Perché da quel che abbiamo potuto vedere, per il momento, alla fine di ogni match, a schermo appare soltanto la squadra che ha vinto. Però non sappiamo quante kill ha fatto, quanti assist, quante volte sono state utilizzate le armi speciali da ogni singolo membro di quel team. E non vetraccia della squadra sconfitta. A questo punto, facendo un paragone tra le schermate finali di Splatoon 1 e 2 e quelle di Splatoon 3, preferisco quelle presenti sui primi due capitoli della saga. Proprio perché ci forniscono maggiori informazioni sull'andamento delle varie partite. Tra gli aspetti positivi ho notato una maggiore personalizzazione, per esempio del proprio name tag. Adesso è molto più simile a quello che già utilizziamo su Rocket League. Possiamo, per esempio, scegliere lo sfondo, il nickname, inserire in alto a sinistra una frase che ci rappresenta, in basso a sinistra invece sono presenti quattro numeri e un hashtag per identificare meglio i vari giocatori. Abbiamo potuto finalmente vedere in azione alcune delle nuove armi speciali, per esempio il Killer Whale o il Trizuka, ma anche il Crab Tank, che io adoro, infatti non vedo l'ora di poterlo provare in prima persona. Ho apprezzato anche il fatto che ci abbiano dato la possibilità di rivedere in azione il multiscatto, questa nuova abilità esclusiva di Splatoon 3, in cui chi praticamente la utilizza ha gli stessi poteri di Spider-Man. Come avete potuto vedere, il giocatore si può muovere molto ma molto velocemente a destra e sinistra sul campo di battaglia, sfruttando i vari elementi presenti sulla mappa di gioco oppure le varie barriere architettoniche. Se avete notato è talmente veloce che sarà molto difficile da colpire e penso che tanti utilizzeranno questa abilità per magari sorprendere dall'alto i propri avversari oppure rientrare velocemente dietro i propri compagni di squadra dopo aver portato a casa magari qualche kill. Durante la partita abbiamo potuto rivedere in azione l'arco, il suo attacco è diverso da quello dei cecchini e lo possiamo utilizzare come il classico arco ma anche a mo' di balestra. Vorrei concludere questo video parlando del Global Test Fire che sicuramente si terrà, come si è tenuto anche per gli altri due giochi di questa, chiamiamola, saga. Tenete in considerazione che il primo Global Test Fire di Splatoon 1 si era svolto praticamente un mese prima dell'uscita del gioco e il gioco era uscito verso la fine di maggio-inizio giugno. Il Global Test Fire del 2 addirittura si era tenuto verso la metà di marzo del 2017 mentre poi il gioco è uscito a luglio ma mi ricordo di averlo provato quando ero andato a Milano per provare in anteprima la Nintendo Switch prima ancora che uscisse sul mercato quindi addirittura avevo avuto la possibilità di provare questo gioco prima del 3 marzo 2017 e mi ricordo ancora che la prima arma che avevo preso era stata la Repolper duplo proprio perché ero curioso di provare questa nuova arma formata da due pistole e la possibilità di rotolare sul campo di battaglia. Per quanto riguarda il Global Test Fire di Splatoon 3 a questo punto direi che sceglieranno una via di mezzo tra quello di Splatoon 1 e quello di Splatoon 2 quindi non lo faranno sicuramente un mese prima dell'uscita del gioco ma neanche troppo presto perché comunque si vede che ci devono ancora lavorare direi che molto probabilmente, però questa è solo una mia ipotesi, si svolgerà verso metà giugno magari lo annunceranno con il classico Nintendo Direct che si svolge ogni anno a giugno fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti vi ricordo ragazzi che potete già prenotare questo titolo cliccando sui vari link in descrizione io l'ho già prenotato tempo fa, infatti non vedo l'ora che esca come sempre spero che questo video vi sia piaciuto se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace commentate, condividetelo, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo in un prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube alla prossima ragazzi!